Poi abbiamo quella roba inguardabile e insopportabile, roba da prendere una mazza e spaccare la testa, gli spalletti. Ma guarda che anche lui, se non si mette sulla retta via, tra un anno ce lo siamo dimenticati, con una differenza. La Ferragni ha una famiglia che potrebbe essere supportata e non pagarne le conseguenze psicologiche. Lui è uno che rischia che tra i cinque anni ha rischio suicidio. Io prego il Dio che Marco sarà ancora vivo, che io sarò ancora vivo, che questa trasmissione ci sia, è scontato perché è il podcast più bello che esiste in circolazione. No, l'hai rotto, guarda! Parliamo solo un secondo, ti prego, del Gay Pride. Ah, ok, va bene. Io ho paura, onestamente. I criminali hanno chiamato Simo Hamza perché lui è un criminale. Benvenuto a Curulandia! Curulandia! Oh, Curulandia! Curulandia! Il tuo podcast preferito? Certo! Ma non ne frega niente. Curulandia! Curulandia, ma va a cagare! Eppure questo podcast spacca. Curulandia! Mi hai capito bene? Favri! È successo una roba strana, che vi devo raccontare. Sapete che ormai questo è un appuntamento fisso. A parte che sono contentissimo tutte le volte che mi fermate e salutate Marco. Ecco, cazzo, l'altra volta lo chiamo per parlare della puntata e lo vedo a torso nudo. Ah, perché? Ragazzi, allora, ora voi lo vedete così, no? Con la magliettina. Ma smetti! Infatti, secondo me sta facendo qualcosa che non vale. Il segno è sempre quello. Abbiamo cambiato le sedie, fanno cagare. Ci siamo. Oggi sono molto serio e molto concentrato. Top, sono contento così. Sì, come stai innanzitutto? Bene, sempre bene. Ultimamente ti ho visto parecchio incazzato, specialmente su Dillinger, soprattutto contro la nazionale italiana. Vabbè, è giusto essere incazzati, però insomma, sei andato pesante. Sulla nazionale italiana non bisognerebbe essere incazzati, bisognerebbe veramente fare qualcosa di più, di oltre. Ora, facciamo due ragionamenti un attimo. Di solito ora io ho una strategia mia di comunicazione che utilizzo Dillinger ormai per esprimere tutto ciò che penso. Infatti è un giornale che va a sé, mentre il mio Instagram lo utilizzo per la vita privata. Per la prima volta ho utilizzato di nuovo il mio Instagram perché non si poteva guardare quella cosa del genere. Quella cosa del genere non si poteva guardare. E quindi alla fine del primo tempo, all'inizio del secondo tempo, prima che la Svizzera facesse il secondo con l'attenzione, prima che la Svizzera facesse il secondo con l'attenzione, ho fatto quella storia. E poi a ruota mi hanno seguito, quella storia ha fatto una cosa come 650.000 visualizzazioni e poi a ruota mi hanno seguito tutti altri vari giornalisti, o influenze, gente e social. E poi abbiamo visto dei titoli imbarazzanti. Da Gospiglia ha scritto andate a vaffanculo, Libero ha fatto un'altra coperta. A zappare mi sembra di libero. Libero ha andato a zappare. Facciamo un'analisi. Prima di tutto diciamo che i giocatori della Nazionale, tutti, a parte Donnarumma e forse Bastoni, in nessun campionato del mondo giocherebbero. Cioè nei campionati importanti, parliamo, l'Inghilterra, la Spagna, la Francia, neanche Barella. Se Barella lo metti nel Manchester City, nel Real Madrid, nel Manchester United, nel Liverpool, non gioca. Prendi le squadre più forti nel Borussia Dortmund, Barella, non gioca. Te lo dice un interista. Gioca, forse, Bastoni, bene, e Donnarumma. Gli altri sono improponibili. Prima analisi. Allora non ci pensano, no? Perché dicono che noi entriamo in campo, l'allenatore ci ha scioccato con questo cambio di tattica, di tecnica, non sappiamo cosa fare, non sappiamo come muoverci, non sappiamo dove girare per il campo e quindi entriamo in campo scombussionati. Però il problema è entrare in campo scombussolati. Il problema è non correre, è galleggiare, è soffrire, è ridere, è cazzeggiare, è fregarsene. Tutti i giocatori della nazionale avevano un valore quando sono entrati agli europei. Oggi siamo uno scommo e scamacca. Per me è uno dei peggiori, è una delle persone che ti dà più fastidio in una maniera impressionante. Primo perché si sente figo. Poi è un mostro alto, magro, storto, con tutti questi tatuaggi. C'è una roba imbarazzante. Salutiamo Scamacca. Grande Scamacca. Cammina, cammina, galleggia, con quello sguardo, sorride. Porco Dio, ma ti prenderebbe di venire tirarlo fuori dalla squadra e prenderlo ammazzate. C'è una roba del genere. Una roba del genere. Scamacca valeva 30 milioni. Oggi scamacca. Ne vale 5. Cioè l'Atalanta se lo deve vendere non lo vende più. Questa è gente che se non si riprende ha finito di giocare per sempre. Prima di tutto perché avranno l'odio social. Meritato. Ora voglio vedere come si comporta perché questo giro la responsabilità non è come negli altri casi quando era successo. È Luigi, è Luigi. Sì. Apre Luigi, vai un attimo. Questo giro è Luigi, lo lasciamo in onda Luigi? Sì, sì, lo lasciamo in onda Luigi. Questo giro non è come l'anno della Nazionale di Ventura. La colpa non è di Spalletti, poi arriva Spalletti. Ma la colpa, prima di tutto, è dei giocatori, a prescindere dall'allenatore. Ora ci arriviamo. Perché i giocatori, se non hanno i coglioni, già non sono capaci di giocare tecnicamente. Quindi non hanno una tecnica adeguata. Se però poi entrano in campo e non gliene frega un cazzo e pensano soltanto alle vacanze e al divertimento, poi però ne pagano le conseguenze. Infatti il problema secondo me è proprio qui. E sto giro ne pagano le conseguenze. Non dico che pagano le conseguenze come è successo alla Ferragni, ma ne pagano le conseguenze perché nei posti dove andranno saranno giustamente criticati. E secondo me le vacanze si devono fare a parte, non dove le avevamo programmate prima. Sicuramente aspetto e spero di non vedere una storia di Zaccagni con la Nasti, ai Bizz, ai bambini, gli orologi, la Chanel, la Porsche, la Lamborghini e quella roba lì. Perché Zaccagni deve avere un minimo di onestà intellettuale e di umiltà. Hai fatto cagare. Avevi un'occasione. Hai fatto un gol di culo. Fine. Stati un pochettino da parte perché te e i tuoi compagni ci avete fatto vergognare di essere italiani. Poi abbiamo quella roba inguardabile e insopportabile. Roba da prendere una mazza e spaccare la testa. Gli spalletti. A parte che lo vedi, credo che Giorgio Armani abbia perso il 70% del fatturato dopo la realizzazione di quelle divise che gli stava da gobbo a uno che era gobbo, poi pesanti con 40 gradi, con quel lu. Tu, cazzo, ora io non entro nel tecnicismo perché non voglio entrare nel tecnicismo. Hai portato 10 difensori per giocare col 5-3-2-1, 5-3-1-5. Hai cambiato modulo ogni partita, non hai dato schieramento e non ci hai messo la faccia. E c'è nel momento che succede una roba del genere. Ma prendi delle dimissioni. Ma lo stesso deve fare gravina. Invece no. Sono ancora lì tutti e due. Confermato anche per il mondiale, tra l'altro. Allora, non entriamo perché noi qui facciamo informazione, facciamo notizia, non vogliamo entrare nei tecnicismi che poi disturba chi segue questo bellissimo podcast. Perché lì poi c'è una questione in più. E sono i rapporti tra lo Stato e la FIGC. Quanto lo Stato dà alla FIGC che ha tutto il potere del calcio in mano. Gravina è un uomo di potere che nonostante gli insuccessi negli ultimi dieci anni, perché dimentichiamo i mondiali, dimentichiamo gli europei del 2020 che è stata una botta di culo. Ma noi è tre anni che non andiamo ai mondiali, tre anni che veniamo eliminati. Sì, è assurdo. Quindi erano due persone a sostituire che però gestiscono un patrimonio enorme da un punto di vista economico e hanno come al solito i giri all'interno dello Stato che ci mangiano. Ora, credo che oltre ai titoli dei quotidiani che sono giusti, oltre ai commenti dei grandi professionisti che ho visto su Sky, che li hanno massacrati, qualcuno debba intervenire. Deve intervenire prima di tutto per licenziare immediatamente Gravina e Spalletti. Qualcuno lo deve fare. E soprattutto di partire da zero e almeno non convocare il 90% dei giocatori che sono stati convocati. Qual è il problema, Marco? Ora mi faccio un po' più tecnico. Ed è un problema da dire, ora non lo dico in tono razzista o in tono delle mie ideologie. Se noi guardiamo le nazionali più forti, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, non gioca con persone spagnoli, francesi e inglesi. Sono stranieri, cresciuti, radicati, o quindi misto sangue. In Inghilterra abbiamo Bellingham, in Francia abbiamo... Nella Francia abbiamo Babè, Tim Dembélé, ne abbiamo mille, Cantè. Sono tutti oriundi, coltivati, fin da piccoli, presi nei posti dove non essere presi. Quello è il nuovo calcio. Non ci sono i francesi, noi non ce li abbiamo questi. Se guardi la Spagna, a sinistra gioca uno che sicuramente non è spagnolo, perché non è di origine spagnola, che fa la differenza, l'abbiamo visto. Allora il problema è ripartire da lì. Se, attenzione Marco, fosse realmente giusto... Ora la domanda io ti faccio. È giusto che chi nasce in Spagna, viene da un'altra origine, fa un campionato... Cioè è un campionato delle nazionali. Delle nazionali, ora non dico che ci deve essere il milanese, il romano, però ci devono essere persone italiane al 100%. Dico una cosa che poi può essere giudicata male, ma lo dicono se no vale tutto. Allora io incomincio da ragazzini a cercare di andare in giro per il mondo. Quello che fa la canteria del Barcellona, perché la canteria del Barcellona oggi ha il giocatore più forte del mondo, Yamal, che però non è spagnolo, è marocchino. Se nasce e cresci lì sei spagnolo. L'hanno preso, ha otto anni, è nato lì, l'hanno trasferito, ha preso la residenza, l'hanno allenato. Ok, ma non è spagnolo, capito? È un'altra roba. Allora bisognerebbe incominciare a fare così, che è un'altra questione, però è un peccato. Comunque ogni volta che ci siete 18 querelli ci fai premendo. No, ma non è querelli. Allora oggi è uscito Fazio da Rovazzi, a 2046 podcast. Ha fatto 5.000 visualizzazioni. Già non si taglia le vene a guardare quella roba lì. Ma Fazio, lui ha sbagliato, ha sbagliato tutto. Ne deve ringraziare noi che l'abbiamo chiamato qua. Parlo noi perché ormai mi sento a casa. Gli abbiamo sollevato un po' l'immagine, Gagurran. Ciao Fabio, ciao Fabio. Senti, ormai appuntamento mensile, costante. Costante, però io non faccio l'arrabbiato. Io vengo qui e dico quello che penso. Spari sentenze. No, sparo sentenze vere, perché io non ce l'ho. Per esempio, non ce l'ho con Scamacca. C'è, cazzo, Scamacca, hai. Perché Scamacca? Ha fatto cagare. Perché ce l'ho con Scamacca? Perché ce l'ho con Scamacca? Perché a differenza di tutti gli altri, per esempio, Scamacca, tecnicamente non è male. Il resto dei giocatori, forse Barella, insomma, vabbè, ma Di Marco, tolto dal contesto Inter, Di Marco dal contesto Inter è un giocatore in serie D. Te lo dice un interista sfegatato. Barella nel contesto Inter funziona, Darmian nel contesto Inter, ma hai gente che non sa fare un dribbio, non si sa smarcare, non sa palleggiare. Scamacca almeno un po' di tecnica ce l'ha, però se non hai voglia. Guarda, io ho pensato... È proprio quello, cioè erano sfogliati, non potevano loro andare in pizza. Io ti dico una cosa. Tutti mi dicono, perché è stato un po' di posto, eh, ma tu non sei un esempio per i giovani, perché hai fatto qui e hai fatto lì. Oh, ma porco Dio. Ma se mi fosse stato dato il permesso. Immaginatevi questa scena. Marco. Spalletti, fine del primo tempo, esce Scamacca, entra Corona. Un vecchio di 50 anni, 51 anni, che praticamente si fa una rampa di scale. Hai il fiatone. Ma cazzo. Ma sei rientrato? Hai incominciato a bestemmiare di qua, a bestemmiare di là. Hai preso, anche lì, c'erano tre ragazzoni di colore enormi, subito in Tekken, a fallo di ammunizione, lo spingevo testata, davo la grinta, con le palle bisogna giocare, con i coglioni. Con i coglioni si ottengono le cose. Sarebbe stato bello comunque. Sicuramente, 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 sicuramente come look, avrei dato pane a tutti quanti. Senti, ovviamente tutti vogliono sapere, aggiornamenti. A me ormai non me ne frega più niente, sono sincero. Però, ascolto il pubblico, aggiornamenti sulla vicenda Ferragnez. Guarda, anche noi su Dillinger stiamo facendo una scelta, perché ormai non è che puoi parlare sempre di Ferragnez. Esatto. Due cose, tre cose vanno dette. Tre. Così vi faccio divertire, vi faccio un'analisi di comunicazione, vi faccio un'analisi di comunicazione, non quelle finte della Lucarelli, che poi le usa per vedere i giornali, ma vi faccio un'analisi di comunicazione e vi faccio anche riflettere. Primo, video virale di questi due giorni è la Ferragni in spiaggia sulla Battigia. A Forte. Sola. Di solito era circondata a 30 guardi del corpo, era inavvicinabile, e soprattutto con la sua spocchia e la sua non curanza non salutava nessuno. Si avvicina a un bagnante, tra parentesi di un, un maranza allucinante, col costume bianco, il pacco di fuori, che parlava in mezzo. Poteva essere tuo parente, la mezza Toscana, con l'acento Toscana aveva, no? Sì, sì. E hai incominciato a fargli un'analisi personale e a dargli un consiglio. Cioè, questo bagnante, uomo comune, da 1300 euro al mese, forse, si avvicina... Siamo il bagnante dai poverini. Allora, se ci dai il numero, ci scrivi, giuro, credo che Marco ti possa invitare a google. Intervista. Giusto, intervista immediatamente. Si avvicina, la riprende e non è che gli chiedono una cosa, gli dà un giudizio, vedo che ti fa bene stare da sola, ma non ti preoccupare, da singolo sei più creato. E lei tutta timidina, sì, sto bene, sono più felice. Ma porco. Che vada a Fazio? Che dovevi raccontare non hai detto un cazzo, arriva il bagnante della porta accanto, fai la triste e gli dici sì, mi fa bene stare da sola. Quindi lui dice... Guarda, ti dico la verità, ma te lo dico seriamente, a me comincia a fare un po' pena. E credo che faccia pena anche alla Lucarelli che ha smesso di attaccarla. Adesso si sente un po' in colpa, perché è oggettivamente una donna finita, sotto tutti i punti di vista. Finita economicamente, finita lavorativamente, senza contenuti. Si è questa inchiesta, oltre a danneggiarla da un punto di vista lavorativo, primo, virgola, da un punto di vista economico, virgola, da un punto di vista contrattuale, quindi ha perso tutto, avrà avuto una perdita del fatturato del 95%. e ora speriamo che sappia gestire, la vediamo che va comunque con gli aerei normali, al matrimonio della Leotta, va con l'aereo di linea, la vediamo che va sempre a Forte dei Marmi, che non va più in queste case, ha fatto una collaborazione con un albergo scrauso, comunque va a cena nei posti, quindi ha incominciato a capire che deve limitare tutte quante le spese, quindi non fa più la vita di prima. se tu analizzi il suo Instagram da dicembre a oggi, non c'è un contenuto, non c'è una cosa interessante, tolti i figli, finiti, non hai qualcosa da raccontare, allora io potrei dare un consiglio, cioè se vieni da me io ti insegno come fare, ma la prima cosa che devi fare quando tu hai una sconfitta è ripartire dalla sconfitta, chiama gli avvocati a cui dato milioni, chiama le agenzie a cui dato milioni, chiama gli stagli a cui dato milioni, non servono niente, te devi metterti lì e dire, bene, da oggi vi racconto la mia storia e non la vendo ai giornali o alle televisioni come ha fatto Ilari, la vendo, ve la racconto qua, non è che do il milione in beneficenza, partendo dalla tua storia, raccontandola al tuo pubblico, ammettendo gli errori, perché attenzione Marco, io sono sicuro, perché il mio lavoro lo so fare meglio di chiunque altro, che quello che è successo alla Ferragni non è stato fatto non è stato fatto da lei intenzionalmente, sai, è quella leggerezza che tu hai quando hai il potere, i libri, si elabori, è la stessa roba di Salvini che va al papete e metti, quella roba lì, non ti rendi conto, e lì è successa di contrapeso una cosa troppo grave, però la roba troppo grave arriva quando tu ottieni dei meriti perché non hai le qualità e le capacità, allora l'unica cosa che tu puoi fare è raccontare la tua storia, metterti per la prima volta a nudo, piangere, ridere, essere vera, raccontare come hai cominciato, quello che hai fatto, quello che vorresti fare, le tue colpe, le tue sensazioni, cosa è successo veramente con Fedez, cosa è successo veramente con quello che era il capo delle tue aziende, cosa è successo, racconta la tua vita, prendi in mano la tua vita, reagisci, perché se no sei finita, per tornare devi essere vera. Scusa, scusa, c'è il lato che mi puoi fare un piacere, puoi mandare una mail all'attività di una torre 50? 60, 33, non ha problemi, ancora non ha problemi, ho capito, ma questa consulenza vale, poi attenzione, se viene da me gli do qualche consiglio. Chi invece ancora non prende Eridilina, ma anzi sembra rinato, in un qualche modo è favorito. a chi dice a Fedez che l'operazione di Olli fa, allora, succede questo, abbiamo visto, Federico Lucia, il nostro amico, insomma, ultimamente mi ha fatto arrabbiare, poi ti dico. Sì, ma perché lui è lunatico, è una persona che ha dei momenti, specialmente, in pubblico, la gente, in un modo, poi in un altro, non si è comportato bene da ruzza, ma è così, purtroppo però poi non puoi arrabbiarti perché devi sapere che è una persona problematica con tanti problemi personali, molto solo, forse vede anche tutti quelli che lo vogliono utilizzare, però facciamo, partiamo piano, parliamo di tre cose, l'abbiamo visto, criticato da tutti, io l'ho criticato in tutto quello che ha fatto oggi, cioè per me, so che l'hai avuto prima ospite, ci sta che trasmissioni Twitch come Ometol, che a me piace di più perché è più intelligente, più, va più sul profondo, oppure insomma, Greenboard per me è buono, non so neanche come si pronuncia, però lo guardo, mi viene il terrore, cioè, a ruzza si decida di fare quella roba con lui, ma non è che poi ti vendi per i numeri, perché poi queste cose le paghi, dopo parliamo di ruzza, per me è il rosso, cioè è simpatico, ma puoi andare tre volte da rosso a raccontare tutta la sua vita, quello è stato forse dei più grandi errori. Infatti ti voglio chiedere secondo te come mai, cioè cosa lo ha spinto, è la promozione dell'album, prendere il target, avvicinarsi a quel pubblico. Perché in questo momento lui ha una sindrome di Peter Pan devastante, lo vediamo anche dalla casa che ha fatto, tenendo conto che ha 35 anni, 36 anni, ha due figli, non puoi fare quel tipo di casa, poi arriviamo anche a questo, però sai, nel momento in cui decidi che vai da rosso, vuol dire che a rilasciare, sì, puoi farlo una volta per cazzeggio, per la promozione del disco, ma... Ma c'è fisso ormai, c'è fisso quasi, io lo vedo sempre lì. Perché lui spera di... vuole questo personaggio anticonformista, anticontocorrente, che però non è più. Ma guarda che anche lui, se non si mette sulla retta via, tra un anno, ce lo siamo dimenticati, con una differenza. La Ferragni ha una famiglia che potrebbe essere supportata e non pagarne le conseguenze psicologiche. lui è uno che rischia che tra cinque anni ha rischio suicidio. Ma glielo dico, guarda, sono cose che gli potrei dire anche lui, quindi si deve mettere, non ha tanto tempo. Sull'operazione Olifan, io l'ho chiamato e gli ho detto, Fede, devo fare i complimenti. Perché? Perché secondo me, il mio mestiere lo so fare meglio di tutti. secondo me, l'operazione di Olifan è stata strategica. Ci avevo pensato anche io per un periodo. Ti spiego perché. Prima di tutto perché è stato l'unico artista in Italia a fare un post condiviso con Olifan, che è una piattaforma internazionale da milioni di follower che non ha mai fatto una partnership con nessun artista possibile, immaginabile. Quindi lui ha fatto un post condiviso con la piattaforma. Non l'ha fatto lui, lo ha fatto l'alter ego di Fedez, ovvero un uomo pupazzo. I pupazzi hanno un significato molto importante, travestito, che era quindi il suo alter ego versione pupazzo. Quindi non era Fedez, chiamiamolo Fedex. Ok? Tra parentesi c'è una serie molto bella su Netflix ora che si chiama Eric, sulle anni Ottanta quando andavano di moda i pupazzi, che hanno un significato storico molto importante. Allora gli dico, Fedez, ma te ti sei reso conto di quello che hai fatto? Fede. Sì, cazzo, ma te sei reso una figata, l'hai capita? Gli ha detto, guarda che tu non hai capito. Hai azzeccato perché, prima di tutto, la piattaforma OnlyFan è la prima piattaforma unica dove veramente puoi vendere contenuti personali non sessuali, contenuti di video sessuali a pagamento per la portata di pubblico che ha. Tutti la utilizzano per vendere porno e sesso, ma quella piattaforma ha un concetto in cui tu puoi vendere la tua vita privata e non esistono i canali broadcaster, sai quelli che compaiono sulle storie di Instagram? Tra presente il nostro amico Michele Morrone, sai il nostro amico? Si è rasato a sé. Mostro. Mostro. Non l'ho visto. a 15 milioni di follower e ogni tot mette la storia abbonatevi. 15 milioni di follower due abbonati al suo canale la zia e la mamma. Sei un po' geloso di Morrone. Lascia perdere. Comunque lui fa questo e lui dico Fede vuoi un consiglio da una che ne capisce? Facciamo subito il bacio per chi copertina con garanzo perché lui sta ancora con quella ragazza lì ti è travestito da quella roba lì. Cazzo una roba fenomenale e poi incominci a mettere contenuti di quel personaggio lì su o li fanno a pagamento fai 300k a mese. Cazzo ma sai che un'idea sai che finita. Non si è neanche reso conto di quello che ha fatto e di quello che aveva per le mani. Perché lì aveva fatto un'operazione. Poi il resto la musica la roba cioè io credo che questo sia un mondo completamente destinato a finire. Il contenuto del cane ti fa ridere ma 35 37 anni ci sono i rapper della giovanità c'è il gioielliere già che ha vent'anni ha una sostanza estremamente superiore a Federico Lucia che vuole tornare a fare il rapper ma in questo momento non è più niente e deve stare veramente veramente attento. Grande che dici sempre cose la roba di OnlyFan la roba di OnlyFan è devastante. Poi nella prossima puntata oggi abbiamo troppe cose racconteremo delle esclusive sulla separazione perché prima ve l'ho detto oggi a loro ci interessano forse che ci raccontano la verità nessuno di due è capace di andare da un network e dire oh voglio essere vero mettete una telecamera e vi racconto la verità cioè ce la racconteranno mai la verità io molte cose le so e due le so ne so una perché poi c'è questo aspetto ma credo che bisognerebbe analizzare questo vale anche perché se noi viviamo di comunicazione e comunque loro ci usavano perché facemano i numeri perché noi li seguivamo oggi noi noi parlo di giornalisti perché io ho un giornale facciamo viviamo di contenuti anche qui chiamandoli post è chiaro ok parlando di loro la gente ci segue perché vuole sapere quindi loro fanno girare l'economia ma in questo momento lascia perdere che Fedez è nella fase di euforia allora Ferragni credo che faccia tantissime visitare la psichiatra e che stia veramente male e che la sua vita non sarà mai più quella di prima e che il suo ruolo di madre non potrà mai essere quello di prima cosa che da quello che dicono non l'ha mai fatto e chi ne paga le conseguenze sono i figli eh certo come sempre perché i figli non conducono la vita di prima perché i genitori non li fanno condurre la vita di prima perché non la possono raccontare sui social e quindi passano meno tempo che i figli tra parentesi per i figli è una fortuna perché era un tempo giocato sui numeri quindi sulle richieste e la loro vita è meno affettuosa anche se l'affetto era finto perché era dedicato ai numeri sono parole pesanti io dico però parole vere io ho guardato la storia della cameretta di Fedez che ha fatto ah sì sì l'ho vista quella con il Pikachu e la roba lì sì a Federico e a Leone a Leone e Vittoria e a Vittoria a parte la tristezza avevamo due camere da 10.000 metri quadri con tutte le robe lì una mini camera sembra sei con il letto a castello quella roba lì gli metti lo scivolo cioè non è un gioco non è un gioco guarda oggi perché mi sento così sono più profondo Marco ma non è un gioco non è un gioco che devi raccontare ti faccio la stanzetta ti pensi ai problemi che hanno i figli oggi rispetto a prima poi mi fermo perché non voglio essere pesante però non l'ho detto nulla di sbagliato e nulla di offensivo ho fatto un'analisi reale reale di come sono le cose prima quando parlavi invece di Chiara hai citato il matrimonio di Letta in questi giorni ci sono stati diversi matrimoni ci sono stati due matrimoni ci sono stati due matrimoni il matrimonio di Letta di Letta di Letta è quello di Cecilia è quello di Cecilia Allora facciamo due analisi il matrimonio di Letta ha sancito un enorme potere mediatico di Letta perché? perché nel momento in cui scusa un attimo se ti interrompo ti ricordi la tua profezia vero? su questo matrimonio ma guarda posso dirti a oggi io ho detto 2026 entro 2026 hai detto cambio chiedo scusa chiedo scusa si ritratta si ritratta entro il 2 io avevo detto che di Letta Leotta e Loris e Loris Cario come si chiama Loris Cario detto Giuggio Lora ma poi tra parentesi posso dirti una cosa ma l'hai visto te? sì magro magro con la panza capelli non mi piacciono tutti i capelli rossi le gambe magre la panza ma con quello l'amore tutti i puntini butterati capito dai i capelli metti un crollo un crollo no quando usciva la prima volta sembrava un figo devastante ma lo vedi allora ragazzi io vi voglio insegnare una roba no? le storie Instagram voi non le dovete guardare così allora l'informazione la fotografia l'immagine se la guardate bene vi raccomando voi non dovete ascoltare quello che vi comunicano le storie Instagram attraverso le parole di chi guardate ma vi potete guardare oltre la storia cercare di guardare come ci si comporta i piccoli dettagli se uno guarda soprattutto si rende conto che l'oriscario sia uno sfigato è un giuggiolone incredibile detto che all'interno proprio delle storie ti rendi conto che lui non esiste in quel matrimonio secondo me non aveva invitato neanche il genito non c'era un compagno di squadra non c'era nessuno cioè lui lei prendeva un pupazzo era uguale quindi il matrimonio era di diletta le otta cioè non era il matrimonio di diletta le otta è il matrimonio di diletta la fine punto quello è vero c'è un gossip qua esclusiva diamo anche delle esclusive il fratello Mirko si è sposato con una dottoressa la moglie non c'era non so che possa interessare sono amici miei perché sono cresciuto quando ero piccolo il motivo non ci sa pare che si sia rotto qualcosa pare però nessuno l'ha fatto notare comunque il matrimonio di diletta le otta è stato il matrimonio di diletta le otta ha certificato che l'oriuscarius non esiste io avevo fatto una una uno dei miei come li chiamiamo profezie una delle mie profezie avevo detto che sarebbero lasciati entro il 2026 il 2026 Luigi cambio della profezie diletta le otta e l'oriuscarius si lasceranno entro il 30 giugno del 2025 ho anticipato vedendo le cose ho anticipato ora io prego il dio che Marco sarà ancora vivo che io sarò ancora vivo che questa trasmissione ci sia è scontato perché è il podcast più bello che esiste in circolazione però se ci siamo tutte e due noi saremo qua il primo di luglio a dire cazzo Fabrizio avevi ragione e vedremo diletta le otta fotografata con un campione americano uno famoso ok aspetta quindi lei sancisce un potere enorme della le otta perché nel momento in cui tutti i top artisti Unziger Ferragni la famiglia Berlusconi Canalis produttori salutiamo il comandante sempre numero uno comandante produttori vanno lì tra parentesi in un matrimonio bellissimo organizzato da Dio con uno scenario pazzesco sembrava guarda in meglio il matrimonio di Ferragni stancisce un potere mediatico della leotta che deve tutto questo all'organizzazione della sua persona alla costruzione della sua persona del suo personaggio a tutto quello che la circonda sua madre che l'ha fatta nascere l'ha partorita l'ha istruita l'ha modificata chirurgicamente gli ha dato un insegnamento gli ha fatto fare le scelte giuste è diventata la sua manager ingerisce tutto e ha creato un mostro mediatico che sarà una che lavorerà sempre e vorrà sempre di più per questo e avrà successo per questo l'oriscarius durerà massimo un altro anno massimo ho detto quindi siamo al primo di luglio già tra un anno a quest'ora lui sarà nel dimenticatoio tra 5 anni lo vedremo con la panza una roba e quindi questo è il fenomeno di Dilettelot la cosa più divertente è che a un certo punto tu vai non poteva succedere negli altri anni che tu andavi a un matrimonio con cui era stata concordata un'esclusiva giornalistica chi? che magari pagata e ti potevi permettere di fare delle studenti ci parlano tu vedi che fino a un certo punto della chiesa il matrimonio nessuno posta ovviamente noi giornalisti li abbiamo allertati appena posta qualcuno andiamo col matrimonio chi è stata la prima chiara subito subito parte la Ferragni proprio appena si vedono due in cominciamento la storia perché le visualizzazioni si alzano e perché il ricordo del matrimonio colpisce e perché le lacrime piacciono a ruota mentre guardavano internet tu cazzo ma la farai praticamente c'era il filmato del matrimonio su tutti i social su tutti i post i cazzi vostri porca borda invece matrimonio posso dire solo io una cosa matrimonio Cecilia Rodriguez più che il matrimonio di Cecilia e Ignazio mi sembrava un po' la festa di Tony F mi ha espresso proprio non so se hai visto un po' lasciamo perdere Tony parliamo qui parliamo qui di cosa la roba lasciamo perdere parliamo quello che ti disturba secondo me non voglio fare il il soprattutto io sono uno radicale io sono uno che non gli ha fotte un cazzo il matrimonio di Cecilia e Ignazio era davvero brutto era brutto il posto erano brutti gli invitati non dico Tony questo c'era la gente brutta perché poi c'era Giuseppe Capriati uno dei più grandi dj che esista al mondo lasciamo perdere i cantanti che sono cantanti ma la gente quelli che c'erano c'erano gente sconosciuta brutta gente il posto era brutto la musica era brutta non ti è piaciuto dai non ti è piaciuto no non mi è piaciuto perché se tu esci una settimana prima con il matrimonio della Leotta ok la Leotta e comunque è il matrimonio dei Rodriguez ti sto facendo questa analisi lascia perdere Tony che ha cantato la storia dell'arte dell'Ellis quella roba lì insomma non ci interessa non facciamo gossip sui trapper noi però se tu guardi il matrimonio se facciamo un'altra analisi se tu guardi il matrimonio della Leotta e guardi il matrimonio dei Rodriguez una volta i Rodriguez erano i Rodriguez Belen dettava a leggere a testa e a sinistra comandava cioè era avrebbe tu non te lo immaginare maestoso era la fidanzata di Fabrizio Corona c'era Belen c'era Geremia c'era il padre c'era la madre stiamo parlando di Cecilia che si è sposata con Ignazio Moser cioè suo padre è un'istituzione nazionale un uomo uno dei campioni del mondo ma soprattutto una famiglia con i contropoglioni borghese ricca per bene ok invece ti trovi una roba proprio da balera da serie C da serie D ti dispiace un po' ma ti dispiace poi uno dice ok ma che cazzo te ne frega si saranno divertiti si sono divertiti ma rispetto per quanto riguarda l'immagine e la proiezione economica del lavoro futuro è come l'Italia e gli europei Cecilia ha perso in comunicazione e lavorativamente 100 punti io oggi non avrei pagato tanto per mettere un abito a Cecilia io oggi non prenderei Cecilia più per fare delle cose di alto livello proprio nel momento in cui fai un matrimonio che ti posizioni bassa contro un matrimonio alto il tuo peso il tuo valore cambia ora noi qua stiamo parlando di analisi di comunicazioni commerciali di valore stiamo parlando non stiamo spettegolando a quello che è scopato con quello analisi di mercato ah ma ha cantato quello ha cantato con quello tu dici è il mio matrimonio sì lo voglio fare come cazzo voglio certo a me mi piace vivere così io vivo sono una distrada io distrago bene però se non metti davanti il tuo lavoro e quelle cose lì a me ci sta va bene ti sei sposata ti sei divertita ma purtroppo quando fai queste robe devi pensare anche alla comunicazione perché la comunicazione ti fa vivere quindi il matrimonio di Cecilia è stato un disastro mi dispiace poi gli faccio gli auguri la domanda è questa ma secondo te perché non sono stato invitato infatti come mai non sei stato invitato sto scherzando dai ma non sei stato invitato cioè sei stato invitato e non ci sei andato tu lo sai i rapporti Belene è tuttora una delle mie migliori amiche io gli voglio un bene infinito Cecilia me la sono cresciuta sono stato 4 anni e perché non ti hai invitato per tutto perché ormai non c'entra un cazzo con la loro famiglia e quella roba lì secondo credo che potevo essere anche un elemento destabilizzante ti prendi troppo la scena capito però ci sta però allora quindi il commento ci tengo a dirlo perché io non voglio parlare male io ti faccio un ragionamento a livello di comunicazione non a livello poi certo chiaro sicuramente e ti apro una parentesi romantica Ignazio è cambiato ha fatto un suo percorso in questi tanti anni della storia con Belen e ha cambiato tantissime abitudini chiamiamole così perché sono successe le cose le hanno fatte cambiare e oggi finalmente comunque una coppia resta insieme da tanto ed è una bellissima coppia che si ama veramente questo è importante finalmente il resto un applauso un applauso il resto è contorno puramente contorno però è da analizzare è da analizzare senti per concludere questa puntata l'altro giorno ti abbiamo visto no aspetta dobbiamo parlare anche di altre due robe parliamo prima di concludere la puntata parliamo solo un secondo ti prego del gay pride ah ok va bene io ho paura onestamente ho un po' paura però scusate ragazzi noi in Italia abbiamo un papa che parla di frocitudine papa il frociaggine frocitudine frociaggine sappiamo bene a cosa si riferisce poi abbiamo tutti questi paladini dei diritti gay omosessuali sai che abbiamo parlato lgpqt ma cazzo ma ne hai visti i carri ellie schlein era sailor moon ellie schlein capo del pd era sailor moon ellie era vestita come se fosse il carnevale di rio nella versione ronaldino adriano tutti completamente ubriachi fatti che ballavano ma il messaggio cioè il messaggio il messaggio di questa gente ma i bambini che passano per strada vedono questo schifo che fanno va bene non mi esprimo anche se sono d'accordo lo sai lo sai lo sai lo so che sei d'accordo poi acro tutti i diritti quelli lì perché questa roba qua tira fa moda sai noi che abbiamo visto abbiamo visto Michele Bravi Paolo e Chiara Anna Lisa Elodie Big Mama questa gente questa gente qui lavora e funziona perché ha un mondo di quella roba lì come i trapper se tu vai ai concerti di Sfera ha fatto il concerto il gioielè il gioielier Tedua hanno fatto i concerti ora no? il pubblico era dai 12 ai 24 25 cioè non è che c'erano i trentenni vai da Vasco trovi tutte le generazioni cioè questo ti fa capire è un'altra roba ed erano un pubblico di 12 25 28 anni un certo tipo il figattino non se lo va a vedere lascia perdere il gioieliere è un'altra roba però questi hanno questo pubblico questi cantanti qui hanno il pubblico lgb quella roba lì quella roba che c'è quegli uomini che si vestono da donna che si vestono con le gonna manco Valadina di Mursuria ormai Valadina di Mursuria è troppo seria per quella roba lì e quindi è una roba commerciale lo fanno per commercio per attività cioè alimentano un mercato di questa roba qua che non ha nulla a che vedere con i diritti cioè che non ce la spacino più per una manifestazione in difesa dei diritti perché non è una manifestazione in difesa dei diritti è uno show commerciale stupido è veramente trash la pagina trash italiano è questa roba qui ce l'ha nel nome ha 5 milioni di follower perché è quella roba lì parla di quella roba lì e ce l'ha nel nome senti l'altro giorno eravamo scusa poesie poesie cioè non è che per sempre dobbiamo fare le roba ormai facciamo analisi cioè ogni mese ogni mese noi facciamo l'analisi di quello che succede sì sì Ruzza mi diceva l'altro giorno eravamo da Lorenzo Ruzza nostro amico per me è il numero uno assoluto io gli voglio il bene dell'anima Ruzza ciao allora io l'ho detto da voi qua guro però oggi faccio un'analisi diversa attenzione è stato un grande vedi questa è l'opinione dell'agent e io non sono così d'accordo allora Ruzza beh mio amico Ruzza che io stimo attenzione lo stimo perché perché uno primo perché uno che si è fatto da solo secondo perché uno molto molto serio non beve non si fuma non si fuma terzo perché ha una dedizione al lavoro che abbiamo in pochi Marco ce l'ha per esempio Marco ce l'ha voi non lo direste mai ma io ho una dedizione al lavoro forse più di tutti quanti Ruzza ce l'ha è proprio concentrato crede in quello che fa però Ruzza ha preso una strada che lo ha portato ad essere Ruzza seguitemi Ruzza vende orologi che costano tantissimi soldi vende borse vende borse vende gioielli quindi in quel leader il settore è per ricchi molto ricchi cioè le cose che compra le vende da 5.000 euro in su dai non trovi 2.000 euro 3.000 euro in su ma quindi 250.000 fino agli 800 800 un milione sono dei pezzi che anche valgono un milione è stato molto bravo sui social l'Azza devo dirti la verità è amico suo prima che l'Azza diventasse l'Azza dall'inizio proprio dal 2018 2019 e poi oggi l'Azza è diventato uno dei più bravi uno dei più forti e continua però ora ha fatto un'operazione ha fatto il lancio un'operazione commerciale intelligentissima perché? perché fai un prodotto che costa pochissimo bello esteticamente che costa tanto che porta un nome un brand Ruzza si chiama Ruzza Watch copiato un pochettino dal Patek e dagli orologi che però chi ce l'ha perché è un numero selezionato è come se avesse un must have cioè avesse raggiunto una sorta di successo e di potere economico la prima cosa che ti fanno notare i rapper nelle canzoni infatti c'erano Fedez c'erano la Azzar c'erano la Mischilla cosa ti racconto le canzoni se tu ascolti l'album ho fatto i soldi sono diventato ricco il primo milione il secondo milione il terzo milione quando fanno questo per dimostrarlo fanno tre cose due cose si compro prima tutto l'orologio e poi la casa lo stesso l'Azzar c'ha 10 orologi 20 orologi 30 orologi ma è un appartamento quindi comprarsi l'orologio è lo stato simbolo per eccellenza è dire sono stato ricco se poi lo compri da Ruzza sei ricchissimo quindi oggi noi da Ruzza nella settimana normale perché io sono di Milano incontri lo zingalo che ha appena fatto una rapina che sa che può pagare 5 mila del contante gli altri con giri di assegno che lo fa entrare non si fa vedere ma gli vende l'orologio e quello fa la storia che sono da Ruzza lo zingalo dopodiché hai il ragazzino che ha il mito di Ruzza perché è muscoloso perché è simpatico perché è amico di Ruzza perché ha fatto il grano quindi sì si compra l'orologio e hai la mente dell'orologio ma se tu noti Marco e Ceri in quella lunghissima fila clamorosa clamorosa che c'era da Ruzza clamorosa era esattamente la stessa fila che abbiamo trovato all'apertura del panino del paninaro di Steven Basalari con mollica o senza mollica uguale fila che girava e il prototipo delle persone erano gli stessi ragazzini ragazzi di quelli lì nessuno di quelli lì che c'erano lì fuori si poteva permettere un orologio forse non si poteva permettere neanche Ruzza Watch allora io te lo do un consiglio come amico e te l'ho detto e te l'ho detto l'altra volta sei una persona meravigliosa e non ho bisogno di le carte il curo perché gli orologi li compro hai fatto un grandissimo successo hai creato un grandissimo brand in questo momento però se vai in questa direzione sei troppo commerciale e il fenomeno commerciale rischia di esplodere come ha avuto un calo con mollica o senza mollica quindi oggi deve entrare in un altro tipo di mercato perché sennò diventa l'idolo dei ragazzini e dura due anni buona fortuna posso dire una cosa anch'io l'idolo dei ragazzini quest'anno chiude a 70 milioni 70 70 poi il ragazzino avverte il padre oggi ho chiuso il bilancio va bene non voglio parlare non posso Sara mi ha detto che non parlai Sara mi ha detto che non parlai di me questa non la taglio noi tu lo sai io compro oggi ho oggi ho un Daytona questo vale 35 diciamo ok prendiamo il mio Patek quello che ho l'altra volta il Patek costa io l'ho comprato costava io l'ho pagato 185 su 185 mila chi vende il Patek ha un guadagno di massimo 10k se è bravo 15 secondo me no sai si su un Daytona ha un guadagno di 4-5k quindi il ragionamento è in una vendita di orologi se tu fatturi 50 milioni 60 milioni ok 40 milioni diciamo 40 milioni te lo dico io il margine è intorno al 10% sono 5 sono 4 lordi perché ci paghi le tasse perché lui fa l'eropera e che cazzo ci fai con 2 milioni di euro l'anno uno come te per dire si fatturo 70 milioni che ti resta Marco Lorenzo sta qua se tu gli offri dei soldi in contanti non li prende e quindi con una società regolare con un cash flow regolare vuol dire che tu paghi tenendo conto che non puoi scaricare un cazzo non è che Lorenzo va al ristorante si compra paga la vacanza quella roba lì quella roba se la scarica se lui si questo è un ragionamento imprenditore se lui si dà un emolumento amministratore lui può scaricare le sue spese ok e quindi mette da parte le sue roba ma con la società non scarica un cazzo vuol dire che ha un margine del 10% su cui paga minimo il 40% di tassi certo attenzione uno che da niente fattura 70 milioni e si porta a casa un milione e mezzo di euro l'anno puliti è un calciatore e che vive in Italia grande rispetto per Ruzzo assolutamente grande Ruzzo tra l'altro se ho passaporto ora devi venire facciamo la tua no si io tra mezz'ora devo essere alla stazione fidati vieni qua non ce la faccio dovevi venire prima ti porto alla stazione ragazzi io non ce la faccio io all'otto devo essere alla stazione è le 7 e mezza facciamo il primo quarto d'ora ma che senso ha io se vuoi torno settimana prossima io non ce la faccio fatti aspettare sono da me alle 4 guarda è tutta colpa sua dove sono le domande preparate ce l'ho tutte qua io se vuoi te le giro è tutto il giorno che te lo dico ma io settimana prossima non ci sono io dal 7 al 14 sparto poi torno si fa il 15 che ti devo dire però lo facciamo è per forza bisogna farla oggi guardate io è tre giorni che gli dico non fare tardi perché non posso scherzando Simone faccio la battuta perché sei tu no? guarda le telecamere sono accese facciamo un secondo dentro facciamo l'intro e poi si rifà no vieni Simo vieni Simo vieni prego aspetta 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 ti faccio oh vai diamo il benvenuto a ah scusa diamo il benvenuto a attenzione attenzione ora facciamo un po' di domande no? sì scusa attenzione faccio guarda veramente questa puntata spaccherà allora anzitutto abbiamo lo zoom questo è un annuncio della prossima puntata abbiamo lo zoom ok puoi levarti un secondo gli occhiali solo un secondo chiudere gli occhi e zoomare sugli occhi zooma sugli occhi non vedo cioè ci ha tatuato ha tatuato sulle palpebre guarda non vedo hai zoomato? guarda non vedo sulle palpebre geniale prima poi allora chi è lui? presentati tieni scusami Simo? ciao ragazzi sono Simo Amstaff perché Amstaff? te lo spiego io perché Amstaff cos'è? è una razza di cani no? esatto e com'è fatto questo cane non ce l'ho presente scusate la mia ignoranza canina eccolo qua lungo lungo lui era magro una volta ora il benessere l'ha ingordito era lungo magro e assimiliava un cane e da lì i criminali hanno chiamato Simo Amstaff perché lui è un criminale benvenuto a Curulantia scusa allora è qua perché annunciamo no? sì sì annunciamo a parte da una notizia dobbiamo due notizie annunciamo io e Marco abbiamo preparato uno speciale perché credo che questo questa è una cosa seria credo che questo podcast ormai abbia perché vedete fa personaggi diversi ora eliminate me che facciamo analisi alla settimana poi fa personaggi di tutti i tipi e si affrontano argomenti di tutti i tipi ed è giusto che lui passi perché è bravo a raccontare anche delle storie quindi in esclusiva avremo la storia del famoso chiamiamolo piccolo valanzasca che è una delle storie di cronaca italiana più incredibile che esiste sulla faccia della terra soprannominato pulce ma ve la racconteremo settimana prossima quindi Simone è amico mio l'ha accompagnato ed è venuto qua perché conosco Simone? basilare perché conosco Simone? aspetta aspetta non ti faccio vedere perché conosco Simone? posso arrivarci? perché eravamo in galera insieme infatti allora racconto un aneddoto di quando andavamo a giocare a pallone no l'aneddoto più divertente secondo te dei nostri anni di galera insieme qual è stato? l'aneddoto più divertente? eh perché facevi il buffon della situazione a calcetto come era in porta? in porta era fortissimo sicuramente più forte di Loris Carrius sicuramente 100% scusa ora vi faccio la domanda nuovo portiere del Newcastle io vi faccio la domanda Simo ma perché l'altro giorno eri con Rondo Sosa? e gli ho detto scusa senti qua chat poi lo pubblica io li guardo lui pubblica questo stato lo vedo con Rondo Sosa dico Simo portamela portalo a Guralandia a Rondo si faceva Guraland è un amico scusa non puoi dire non puoi dire che veniva Guralandia vediamo se riusciamo a portarlo qua in questo top podcast però guarda quando andò a Muschio non so se l'hai vista la puntata non parlava perché? te lo dice lui perché? perché è timido il ragazzo era timido sembrava tipo sotto il personaggio c'è altro quindi penso senti la mia curiosità una roba che secondo me si chiedono tutti ma Fabrizio Corona in carcere era rispettato oppure no? rispettato sì certo più che altro la galera me la facevo erano tutti fan erano tutti fan la galera ce la facevamo io lui cioè non allora ci sono due termini che si usano in galera occupa cosa vuol dire occupare Simo? depresso è una specie di depressione quando si butta giù guarda come occupa non ce la fai più quanta gente che c'era che occupava il termine è occupare l'altro termine è quando vedi quelli guarda la galera se l'è mangiato tanti ce ne sono assolutamente perché vedi che entrano e poi diventano delle larve umane perché invece noi eravamo lì tutti contenti con i tatuaggi bronzati a prendere il sole a passeggiare giocavamo a pallone il villaggio cucinavamo scrivevamo canzoni avevamo questo tizio perché lui per un periodo ha fatto il cantante avevamo questo tizio avevamo questo tizio che si chiamava Sguigno Sguigno SG Sguigno SG avevamo una sala una sala di incisione musicale sotto che scriveva delle canzoni devastanti sotto poi alla palestra diciamo che è una storia abbastanza interessante Simo ti voglio fare una domanda è vero che il piccolo a Lanzasca dettava legge a Baby Gang e a Simba la Rue a tutti a tutti comunque seriamente parlando quando Fabrizio è venuto da me mi ha detto guarda c'è un personaggio molto interessante abbiamo la possibilità di fare una puntata seria improntata su anche quella che è la situazione dei detenuti in questo momento come è un ragazzo è un ragazzo che ha 24 anni e ne ha fatti 12 di galera e 12 in carcere sicuramente ha tanto da dire perché è sopravvengato così perché come Balanzasca perché poi c'è da dire questo comunque il ragazzo però non spoilerare troppo c'è da dire questo voglio fare un'analisi fine sulla galera che meritano i detenuti e questo è un periodo molto difficile perché ci sono una marea di suicidi guarda la situazione delle carceri è diventata allucinante perché poi va a finire che quelle persone che poi si imitizzano perché anche lui vedi lui gente come lui dopo un po' ha la nostalgia della galera sono serio entri in dei mood di vita che alla fine in galera poi stai con i tuoi simili stai bene ti diverti non la vedi come soffre sempre se non hai condanni enormi però se poi guardi uno come va a Balanzasca bellissimo ricchissimo potentissimo ragazzi lasciamo perdere il momento in cui ha rubato le mutande ma ora è uscito perché l'hanno uscito perché non ha la cognizione di causa del momento cioè non riconosce le cose delle persone hanno fatto l'immagine l'altro giornale lo vedi come un vecchio mangiato dalla galera stupido cretino tutti gli ultimi anni di carcere uno che aveva bruciato San Vittore ammazzato a San Vittore uno che non aveva paura di niente se l'è mangiato che cosa resta di Balanzasca io preferirei morire a 50 anni che uscire così tu Simo una passeggiatina la rifarei ti dico la verità grande diciamo che ci sono delle possibilità che succedono ti ricordi il mio amico che ho portato qua sai dov'è a San Vittore salutiamo sconsiglio perché lo salutiamo è perché ci sta guardando ma come col cellulare sconsiglio comunque sia l'esperienza a tutti i ragazzi intraprendere certo allora le notizie come mai si è finito se si può sapere non si può sapere no no è per spaccio lui è un dealer ok ok un dealer tra parentesi quando lo incontro la cosa è divertente che ci incontriamo perché lui è veramente uno di quelli di pochi che frequento allora ricordiamo i nomi ma che fine ha fatto tutti delle fine tutti delle fine allucinanti ultime due notizie per chiudere Ilari fa questa sua seconda serie su Netflix unica due sì è vero visto dove non parla più di Jovino perché non ha niente da chiedere ma attenzione attenzione notizia esclusiva di Gurulandia Cristiano Jovino potrebbe finalmente parlare e farlo attraverso una serie importantissima che sta girando per un famoso broadcaster si può dire il nome del broadcaster sono tre quelli più importanti i due diciamo sono due o Netflix o Amazon come mai pecc o o o o o o o o o Grazie a tutti.